San Carlo all'Arena è un quartiere molto grande, il più grande della città, ed è un quartiere un po' difficile da descrivere. Sicuro una parola chiave potrebbe essere contrasto, perché è un quartiere fatto di posti appunto molto vivaci e anche posti di quiete, dove fare sport o leggersi un libro su una panchina. A San Carlo all'Arena l'eccezione è fatta di piccole cose. Durante una pausa di lavoro si può passeggiare e ritrovarsi immersi in un bosco nel pieno centro della città. Senza eccezione a vita non sapi niente.